allora rispondo alla domanda di un utente ve la leggo caro giulio buongiorno negli ultimi giorni ho guardato i risultati di ieri di pronostico.it e se come dice la quota media dei pronostici dati è 1,50-1,60 si sarebbe invincita anche senza studiare il pronostico sbaglio? allora il discorso è che è sbagliato proprio l'approccio cioè pronostico.it non è nato per darvi pronostici e giocarli senza pensare perché se fate così ragazzi perderete è impossibile che un sistema matematico vi porti a vincere quindi senza pensare perché se così fosse semplicemente non esisterebbero le scommesse sportive non è difficile da capirlo no? cioè se ci fosse solo gioca, 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 gioca e vinci non esisterebbero le scommesse sportive, non esisterebbero i bookmaker chi è quel bookmaker pazzo che potrebbe sostenere un sistema di questo tipo? quello che invece funziona è applicare il metodo quota e scommesse calcio del libro quota e scommesse calcio quindi questo rimane sempre il punto di partenza perché quando avete il cervello l'umano riesce a superare la macchina non è possibile che tutti i ragionamenti che facciamo in questo momento siano replicabili da un'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale però ci dà un supporto e ci aiuta a dire io faccio il pronostico con il libro ok? l'intelligenza artificiale che ho fatto che in parte replica alcune cose del libro mi fornisce il suo pronostico nel momento in cui ho i due pronostici che sono allineati la probabilità di vincita è altissima quindi se io faccio un pronostico con il libro quota e scommesse calcio e do un 1 a quota 1,80 vado su pronostico.it premium mi esce un pronostico 1 allora 1,1 la probabilità di vincita è molto molto alta ok? questo è l'approccio poi esistono delle varianti che comunque vanno bene ad esempio studio la partita e penso a un pronostico over 1,5 il sistema mi dà l'over 2,5 la probabilità di vincere è altissima ma ho sempre fatto il pronostico prima io se uno invece dice perché so che alcuni fanno così ma sbagliano il sistema mi dice over 2,5 io non studio il pronostico mi gioco comunque o l'over 2,5 oppure scalo di 1 mi gioco l'over 1,5 non va bene perché magari quella partita la studiate con il libro quota e scommesse calcio e non è una partita che non vale la pena giocare è una partita che non ha un buon rapporto tra la sicurezza del pronostico e la quota per esempio e lasciatela perdere quindi anche se pronostico.it premium dà tantissimi pronostici vincenti addirittura ieri ne abbiamo dati circa 100 pronostici vincenti su 148 partite mi sembra rimane il fatto che dovete sempre studiare il pronostico perché magari c'è la giornata in cui ecco l'81,5% a quota 1,60 media però magari il giorno dopo c'è la percentuale intorno al 64% quota media ne so 1,50 non lo so ora perché il punto di base è sempre questo dovete ragionare voi perché se pensate che un sistema informatico matematico e basta vi possa dare la vincita sicura state proprio sul diciamo sulla linea errata perderete sempre ok poi io lo capisco perché qui parlo con migliaia di persone c'è quello che dice giuro no vabbè ma io mi diverto ogni tanto prendo a caso dei pronostici di pronostico.it mi gioco mi diverto una volta entra una volta non entra è sbagliato secondo me però ragazzi io non posso stare nella testa di tutti quanti io vi dico quello che dovete fare per vincere per vincere questo è fondamentale applicate questo finché non diventate bravi e ci sono io come stiamo facendo mi mandate le domande vi rispondo e la prima cosa è imparare bene il libro quota sconese calcio il fatto che il pronostico premium stia dando tantissimi pronostici vincenti è un qualcosa in più a supporto ok quindi il libro è fondamentale e il pronostico premium è a supporto potete usare anche pronostico.it la sola versione gratuita senza tutta la parte dei pronostici anche se poi come vi ho spiegato negli ultimi tempi ormai il pronostico premium è diventato potentissimo e consiglio a tutti anche perché adesso tra l'altro il costo del libro è scalato dall'abbonamento dall'abbonamento annuale se prendete l'abbonamento annuale vi scaliamo il costo del libro così è come se il libro praticamente fosse gratis però mi raccomando ragazzi capite questa cosa se bastasse un sistema informatico matematico per vincere non esisterebbero le scommesse sportive non esisterebbero non esisterebbero